Allora, Francesca, che cos'è Contraerea e perché siamo qui in questa palestra della scuola Francesco Severi? Allora, Contraerea è un'associazione di lettantistica sportiva che nasce con la finalità, come potete vedere, di divulgare discipline aeree. Visto che siamo nati da pochissimo, siamo per ora partiti con i tessuti aerei e il trapezio, però il progetto di Contraerea è abbastanza ambizioso, quindi abbiamo in previsione di ampliarci non solo a livello quantitativo proprio come attrezzi, ma anche comunque approfondire altre discipline, quali la pole dance e il cerchio aereo. Cosa a cui teniamo molto sarà anche quella di confrontarsi con le realtà associative sportive e culturali del territorio, dato il fatto che comunque le discipline aeree si prestano a ricchissime contaminazioni, quindi dal teatro alla danza, all'acrobatica e quant'altro, quindi è nostra intenzione comunque interagire anche con realtà presenti sul territorio e avere degli scambi con loro. Marta, di fronte a noi c'è un trapezio, giusto? Che tipo di esercizio, di prova stiamo vedendo? Allora, in questo momento stanno praticamente facendo degli esercizi più di allenamento per prendere confidenza con l'attrezzo e quello che stava facendo prima la ragazza era l'angelo e detto anche sirena. Adesso guarda, ora se... praticamente questa che è una salita, la classica salita che dovrebbe concludersi con una... dovrebbe arrivare spaccata, infatti è arrivata spaccata. Questo si chiama il ragno che era spaccata con le gambe applicate. Quanto è difficile poter arrivare già a questo stato, insomma, uscire a fare una salita del genere e alcune di queste prove? Allora, le ragazze che vedi qua stasera sono venute praticamente 4-5 volte, per cui insomma non è impossibile chiaramente. Ovviamente ognuna di loro ha una base atletica di partenza diversa, c'è chi non ha fatto mai niente nella vita, c'è chi magari è più allenato. Ecco, una nuova associazione quindi che arricchisce il panorama a retino, effettivamente questa ci sembra una bella novità che abbiamo visto raramente. Chi è interessato dove vi trova? Ah, certo, ci trova il martedì, noi teniamo il corso, il martedì dalle 8 alle 10 e mezzo e il giovedì dalle 6 e mezza alle 8 e mezzo. Il corso si tiene qui alla palestra della scuola media Francesco Severi, l'entrata è dalla parte del teatro Mecenate e durante il corso praticamente due volte a un martedì sì o un martedì no viene un insegnante esterna, un insegnante professionista di Roma, come per l'appunto questa sera Rosetta, che insegna attualmente alla scuola romana di circo e imposta il lavoro che poi noi successivamente in tutte le altre lezioni svolgeremo cercando poi di affinarlo, di perfezionarlo e soprattutto facendo sì che i corsisti si sentano sicuri di quello che stanno facendo. Allora, sono tessuti in realtà non elastici e quindi vengono, appunto sono elastici soltanto in un senso, questo per permettere la salita e diciamo che non molleggino eccessivamente e sono gli adrezzo utilizzati appunto per i tessutieri. Quello che stiamo vedendo adesso sono i primi esercizi, quindi quelli che servono a prendere diciamo confidenza con l'attrezzo, ad esempio nel tessuto bianco, adesso stanno provando la cosiddetta ballina, quindi tentare di trovare il baricentro nei tessuti, anzi no ecco adesso l'ho cambiato, stanno provando la salita, quindi le prime salite sia nel tessuto rosso che nel tessuto bianco. Le salite si fanno, è fondamentale la posizione dei piedi ma in realtà come un po' tutto quello che avviene sui tessuti è fondamentale la coordinazione di tutte le parti del corpo. Sia il tessuto aereo che il trapezzo sono entrambe discipline sia maschili che femminili, inoltre una cosa che noi teniamo a rivadire è che sono fattibili per chiunque, ovviamente in base alla propria fisicità e alle proprie esperienze sportive si può raggiungere un obiettivo più o meno velocemente, ma con un certo tipo di allenamento si può comunque tutti arrivare allo stesso obiettivo. Tra l'altro l'impronta che noi vogliamo dare al corso è non solo di una preparazione tecnica ma diciamo essendo discipline che propongono continue sfide sia dal punto di vista proprio dello sforzo fisico e anche a noi ci piace proporlo anche in chiave di accrescimento anche mentale, delle proprie potenzialità e quindi un arricchimento anche sul piano personale. Senti, siamo ben consapevoli di quanto è difficile sopravvivere per associazioni sportive in questo periodo, però c'è un'occasione ghiotta per voi, non solo perché si parla di cioccolata ma anche perché ci potrebbero essere delle importanti risorse, per questo forse è il caso di fare un appello perché gli aretini sostengano questa associazione. Sì, ovviamente come si può immaginare questi sono attrezzi che hanno dei costi molto elevati soprattutto per la messa in sicurezza che è ovviamente indispensabile, quindi noi abbiamo deciso di partecipare a questo concorso indetto dalla Kinder che alle prime 5 associazioni classificate darà dei contributi da investire esclusivamente in attrezzature sportive. Per trovarci all'interno del concorso si deve andare sulla pagina Facebook Kinder più Sport, quindi lo può fare solo chi ha un profilo Facebook, cercare Contraerea e alla destra del nostro nome c'è un tasto digitale con scritto dona un click, cliccando lì noi otteniamo un voto, se poi il click viene anche condiviso nella propria pagina personale raddoppia e questo ci fa salire in classifica nella speranza di arrivare tra i primi 5, tra l'altro stiamo salendo abbastanza velocemente quindi forse ci possiamo sperare. Ci sono ringraziamenti da fare Stella? Sì assolutamente, vogliamo innanzitutto ringraziare il Comune di Arezzo che comunque ci permette grazie al bando indetto appunto dal Comune stesso di usufruire di una palestra, quindi ci concede questa palestra e la palestra stessa quindi la scuola, la scuola media Francesco Severi e soprattutto un ringraziamento speciale a tutti coloro che ci hanno sostenuto fino a questo momento e che continuano a sostenerci nonostante tutto, tutti i problemi che possiamo avere in corso fino adesso, però grazie davvero di cuore. Bocca al lupo allora. Crepi, grazie.